il te lo tengo io la mia un salto la della città in piedi niente e te ne ho mai parlato di una teglia che è l'almmo il teglia mi ha ottenuto la barba parola metri a te mangiare a mangiare la mangiare ma ma per il il pubblico la tua tua ma lei il pubblico di aver guardato a fare il pubblico il 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 capo la il prometto su internet questo è il mondo roma la roma la proposta di quanto c'hai 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 ancora 55 secondi orca trovi mi date vostro e-mail e ve lo mando bravissimo potrò mi rimandare vieni qua un attimo aspetta che se devo fare il video un attimo Ale no, lo cattime che troppo cristian zucca zucca non vomitare zucca 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 non è ancora un po' di garganta e la proposta che è capata foto del mare